Arrestato Sergio Presutti, il presidente della CPC 2005, è stato fermato sabato sera dalla polizia, sequestrati nella sua abitazione circa 100 grammi di cocaina. Attesa per l'interrogatorio di garanzia di Sergio Presutti, che intanto lascia la guida del club calcistico, l'avvocato Barbieri non si sbilancia, aspettiamo gli atti. Si complica la situazione dell'acqua potabile a Civitavecchia Sud, nuovi esami e nuova ordinanza sindacale, il divieto si estende da Bocellebassa a Sangordiano. Al via i lavori al palagrammatico, questa mattina è iniziato l'intervento per smontare la copertura dell'impianto, danneggiata dalla nevicata del febbraio scorso. Camboni, re d'Europa, il campionissimo Civitavecchiesi ha vinto in Polonia il titolo continentale RSX, dominando l'intera competizione. Buonasera e ben trovati con il telegiornale. Apriamo questa edizione con la cronaca. Addestato scalpore l'arresto da parte della polizia, avvenuto nella tarda serata di sabato, di Sergio Presutti, il presidente della squadra di calcio CPC. Presutti, ora ai domiciliari, aveva in casa circa 100 grammi di cocaina. Il servizio. Sergio Presutti, presidente della SD CPC 2005, la formazione di calcio dei portuali militante nel campionato di promozione, si trova agli arresti domiciliari. È stato arrestato sabato dalla polizia di Stato perché trovato in possesso di una quantità di cocaina che gli inquirenti hanno giudicato non potesse essere considerata per scopi personali. Si parla di circa 100 grammi di polvere bianca. Sulle modalità dell'arresto, al momento bocche cucite dal commissariato di Viale della Vittoria. Probabilmente una nota stampa esplicativa sarà diffusa nel corso delle prossime ore. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che il 63enne massimo esponente della CPC Calcio fosse tenuto da tempo sotto osservazione da parte degli agenti diretti dal dirigente dottor Nicola Regna. La notizia dell'arresto di Presutti ha cominciato a circolare in città già nelle prime ore di ieri mattina. Inizialmente si parlava di un'operazione di polizia che aveva portato all'arresto di più persone. Nel corso del pomeriggio e della serata poi si sono maggiormente definiti i contorni di una vicenda che sembra destinata ad avere ulteriori sviluppi. Ovviamente l'arresto di Sergio Presutti, che nel passato aveva avuto un'altra vicenda giudiziaria, ha destato particolare clamore in città. Ex calciatore e soprattutto uno degli uomini più rappresentativi dell'universo che circonda la compagnia portuale e non solo a livello sportivo, essendo state in questi anni in prima fila in tutte le vicende che hanno riguardato i cosiddetti camalli. Riveste quindi un'importanza fondamentale che la vicenda venga chiarita in tutti i suoi aspetti, soprattutto se la droga sequestrata ha presutti, forse per uso personale. Intanto la compagnia portuale, in una nota stampa, sottolinea che il signor Sergio Presutti si è dimesso da lavoratore e socio della compagnia portuale Civitavecchia, società cooperativa per azioni, il 28 febbraio 2002, senza aver mai ricoperto cariche dirigenziali all'interno della cooperativa stessa. Ed è stato fissato per mercoledì prossimo in tribunale l'interrogatorio di garanzia di Sergio Presutti. Intanto il suo legale, l'avvocato Daniele Barbieri, non si sbilancia. In questi giorni fuori città ha parlato telefonicamente con il presidente della CPC 2005. Sentiamolo in questa intervista. Avvocato, che idea si è fatto di questa vicenda? Ha già parlato con il suo assistito? Sì, ho parlato solo telefonicamente con l'assistito, ma ancora nessuna idea. Voglio vedere prima gli atti, vedere quali sono le risultate degli atti, la richiesta del pubblico ministero che verrà valutata poi dal Gini. L'arresto di Sergio Presutti ha fatto ovviamente molto rumore a Civitavecchia perché il personaggio è molto conosciuto, ma fa parlare anche quello che avrebbero sequestrato gli agenti del commissariato, ovvero si parla di oltre 100 grammi di cocaina. Risulta anche a lei, è così? Questo è quello che mi dicono gli operanti in sede di arresto. Naturalmente il terzo presutti è una persona particolarmente conosciuta a Civitavecchia, quindi sicuramente il suo arresto fa parlare, fa notizia, fa clamore. Per quanto riguarda eventuali attribuzioni di responsabilità, sentiamo prima all'esito dell'interrogatorio. Può fornirci qualche dettaglio in più sulla modalità dell'arresto, su come è avvenuto l'intervento degli agenti? No, mi confermano quello che è uscito sulle pagine dei giornali, è stato fermato da un posto di controllo, è stata la perquisizione domiciliare, è rinvenuta la sostanza nell'abitazione, che mi dicono essere stata poi consegnata direttamente dal presunto. La CPC 2005 rompe le silenzio stampa sull'arresto di Sergio Presutti dopo il no comment di questa mattina. Nel primo pomeriggio la società ha diramato una nota in cui comunica le dimissioni del presidente, sottolinea di essere strane ai fatti, al tempo stesso evidenzia il lavoro svolto in questi anni da Presutti alla guida del club. Le vicende personali con quelle sportive non devono essere accostate in nessuna maniera, si legge nella nota diramata dalla società, secondo cui non si può cancellare quanto fatto negli ultimi 13 anni da Sergio Presutti in ambito sportivo. Per venerdì prossimo è stato convocato un consiglio di amministrazione in cui saranno rese note le nuove cariche dirigenziali. E questa mattina c'è stato un altro arresto per droga, questa volta messo a segno da polizia e carabinieri. A finire in manette un 29enne pregiudicato campano da tempo gravitante tra Santa Marinella e Civitavecchia. All'alba polizie e carabinieri hanno fatto irruzione in un casello ferroviario in disuso a Santa Marinella, abusivamente occupato dal giovane e dalla sua famiglia. Trovati, nascosti nel congelatore a Pozzetto, circa 50 grammi di cocaina, in parte già confezionata in bustine, da 0,6 grammi pronte allo smercio, sostanze da taglio e bilancine di precisione. Sequestrati anche 3.300 euro frutto dello spaccio e poi munizioni per un fucile calibro 12, un'auto e due moto rubate. Il 29enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo, per la ricettazione di veicoli e per furto aggravato di energia elettrica ai danni delle ferrovie dello Stato, in quanto si era allacciato abusivamente al quadro elettrico che alimenta il vicino sottopasso ferroviario. Voltiamo pagina, torna a complicarsi la situazione dell'acqua potabile a Civitavecchia Sud. Dalle ultime analisi emergono valori ancora non conformi per quanto riguarda i trialometani. Il divieto viene steso da Boccella e Bassa a Sangordiano. Il servizio. Brutte notizie per quanto riguarda la potabilità dell'acqua nella zona sud di Civitavecchia. I risultati delle analisi dell'Asle Roma 4 sui nuovi campioni prelevati venerdì scorso evidenziano valori non conformi in merito alla presenza dei trialometani presso le fontanelle di Largo Possenti, via del Tiro a Segno e via di Sangordiano. Dal comune arriva quindi una nuova ordinanza sindacale che dispone il divieto di potabilità dell'acqua nelle zone di Boccella e Bassa e Sangordiano. Per Boccella e Basso si tratta nello specifico delle vie comprese tra via Novello, da rotatoia di via del Restrellizio fino al ponte delle ferrovie dello Stato all'ingresso sud dell'Aurelia. Fasci binari delle ferrovie dello Stato dal ponte ferroviario all'ingresso sud fino all'intersezione con la strada delle Boccelle. Strada delle Boccelle dall'intersezione con i fasci binari ferroviari al viadotto dell'autostrada A12 inclusa la Repubblica dei Ragazzi e l'Istituto Sanitario Bello Sguardo. Autostrada A12 dall'intersezione con il viadotto della strada delle Boccelle fino all'intersezione con il viadotto di via Mercuri. Via Mercuri dall'intersezione con il viadotto autostradale fino all'intersezione con via D'Avenia. Via D'Avenia dall'intersezione con via Mercuri all'intersezione con la rotatoria di via delle Sterlizie. Per la zona di San Gordiano si intendono nello specifico via dei Prati dal ponte ferroviario all'ideale al prolungamento di via delle Azalee fino all'intersezione con via del Casaletto Rosso. Via del Casaletto Rosso dall'intersezione con via delle Azalee fino all'intersezione con via dei Platani. Via dei Platani dall'intersezione con via del Casaletto Rosso e prolungamento di Via delle Sterlizie fino all'intersezione con la rotatoria di Via delle Sterlizie. Via Novello da rotatoria di Via delle Sterlizie fino al ponte ferroviario all'ingresso sud sull'Aurelia. Fasci binari ferroviari dal ponte ferroviario all'ingresso sud fino all'intersezione con il ponte ideale. Ancora un grave incidente sulla 12, ancora nel tratto compreso tra le uscite di Civitavecchia Sud e Santa Marinella-Santa Severa. E' avvenuto ieri intorno a mezzogiorno al chilometro 43-400 dell'autostrada e ha coinvolto gli occupanti di due auto, una Nissan e una Mercedes. Sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia e di Cerveteri. Le operazioni di estrazione dei feriti dalla Mercedes sono state particolarmente impegnative poiché le conducente e la passeggera erano incastrati fra le lamiere dell'auto capovolta. La donna, una signora di 56 anni, è stata trasportata presso il policlinico Gemelli in l'ambulanza. La donna è arrivata in condizioni critiche e per lei purtroppo non c'è stato niente da fare, è morta in serata. Il conducente, gli occupanti della Micra, un altro uomo, un'altra donna, tutti italiani, sono stati trasportati invece all'Aurelia Hospital e al San Paolo. La corsia nord della 12 è stata rimasta chiusa al traffico per circa due ore sul posto, anche polizia stradale di Ladispoli e di mezzi del 118. Sono iniziati questa mattina i lavori per lo smontaggio della copertura del palagrammatico crollata durante la nevicata dello scorso 26 febbraio. A seguire l'intervento anche alcuni dirigenti della Flavioni visibilmente commossi per la fine in sostanza di quella che fino a pochi mesi fa era la casa della Pallamano. Il servizio. Il servizio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.